Ti hanno festeggiato, ti piace questa festa? Sì, mi piace come, grazie! E vai! Se Giovanni che c'è cento e qualche giorno in più Cento e cinque minuti Cento e cinque minuti Buona salute! Con tutti i bambini del corpo qua Posso mettere qua l'avanti in basso? Ecco gli altri stranipoti Tutti i nipoti I nipoti Allora, mette tutti quanti là Tutta la famiglia Questi sono stranipoti però Nipoti e stranipoti, tutta la famiglia E allora, Alessio, fallo di un microfono Perché i stranipoti e i nipoti stanno in giro Allora Scusa un po', facciamo una cosa Allora, chiediamo l'intervento di tutti i stranipoti I nipoti e stranipoti Di Norma Sanità, forza! Anche i stranipoti, tutti quanti qua E facciamo una bella foto E chi me la fa? Chi me la fa? Ah, sì Allora Quella cosetta E sentire che anche io Sono parte di un tempo E per questo è inizio di un'altra Chiamiamo tutti i nipoti Allora Allora, tutti i nipoti e stranipoti qua Vicino alla nonna Anche i bambini del gruppo Dai, allora Allora, mettiamo tutti i ragazzi del gruppo E poi facciamo una foto famiglia Tutta la famiglia Va bene? Un po' di pazienza Vai, ci incontrate la nonna Anche qua in basso Anche qua in basso Mettetevi qua Giù In basso Davanti in basso Abbassatevi Ecco, la prima fila Tutti giù Tutti giù Se no mi coprite la nonna Oh, ecco Tanto c'è andato tutti Grazie 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 Grazie